Abbiamo aperto le fornaci romane alla collettività, un momento di condivisione per venire a conoscenza dell'importanza archeologica di quest'area che ha avuto un impianto vita durante l'impero romano, in particolare a partire dal primo secolo avanti Cristo. Noi ci troviamo sul golfo di Castellammare, sul territorio di Alcamo, la zona limitrofa... C'è un fiume che divide il confine con Castellammare e quello con Alcamo, come si chiama il San Bartolomeo. ...proprio adiacente a quest'area e il fiume San Bartolomeo ha un ruolo principale, fondamentale per la vita di quest'area proprio perché il fiume fino al Settecento era un fiume navigabile e poi la materia prima, ovvero l'argilla, veniva presa proprio dal fiume e poi in questo impianto si lavorava l'argilla per realizzare delle anfore. Quindi siamo in un vecchio impianto industriale. Si produceva un grandissimo quantitativo di anfore, ma non solo anfore, anche pentole, tegole, che si trasportavano in tutto il mondo antico dell'impero romano occidentale. Tant'è che i bolli rinvenuti presso questo impianto, gli stessi bolli si sono trovati anche in Spagna, a Marsiglia. Ma perché nel tempo si è fatto di tutto per non farli conoscere? Abbiamo trascurato tanto questa importanza. Perché? Ce lo siamo mai chiesti? Eh, me lo chiedo continuamente. Una bellissima domanda. Bisogna essere anche un po' folli per rivedere e realizzare qualcosa. E quindi il fatto che oggi siano tutti presenti, credo che cominci e sta accadendo qualcosa. Oggi sento che ognuno sente le fornaci come proprie, cioè come bene comune, come appartenenti, non solo ad Alcamo, ma anche a Castellammare, ma anche alla provincia di Trapani e non solo. Stiamo cercando di recuperare un sito che altri hanno scoperto in passato, perché un paese che non ha amore per la propria storia non va da nessuna parte. Sono state individuate almeno una quindicina di fornaci e tutte le fornaci sono dall'altra parte, su proprietà privata, per cui io credo che anche la gestione dal punto di vista turistico di un sito deve partire dallo studio di tutto il complesso di fornaci. Cosa parte oggi qui da questo sito? La volontà del FLAG oggi e del GAL domani di realizzare qui un primo intervento abbastanza significativo. Noi non siamo in grado di risolvere i problemi, però siamo in grado di buttare un sasso nello stagno. Se il comune di Alcamo ci presenterà un progetto per riqualificare quest'area con un parcheggio, quello che voglio, noi siamo disponibili a finanziarlo immediatamente. Capisco che l'archeologia è fondamentale nell'economia di un territorio, quindi se c'è un'amministrazione comunale che è sensibile all'esigenza del territorio, capisco che al di là delle discoteche, dell'immondizia, della sanità, anche i beni culturali e anche la cultura hanno un loro valore, soprattutto per non dimenticare il nostro passato. Uno sprone in più per andare a individuare delle somme, dei finanziamenti, per renderlo maggiormente fruibile. La storia di Alcamo e quella di Castellammare è unica. Siamo convinti che queste due amministrazioni, queste due città, debbano sempre di più parlarsi, sempre di più scegliere una strategia comune e devo dire che questo lo possiamo fare anche con altri territori vicini. Non si può più pensare al territorio come localizzato all'appartenenza comunale. Noi viviamo ormai una realtà talmente importante che quella dei comuni di Alcamo, Castellammare, Calatafimi, collegata chiaramente a Segesta, collegata direttamente per quanto ci riguarda alla riserva naturale e allo Zingaro, che dobbiamo cominciare veramente a pensare che non esiste più il singolo comune. Le forneci romane sono una delle tante risorse che è venuta fuori, che esiste nel nostro territorio. Si possono individuare percorsi, si possono individuare collegamenti. Sono di fatto separate dal fiume San Bortolomeo, semplicemente dalla ferrovia. Oggi le strategie ingegneristiche consentirebbero, con pochissimi anche soldi, poter collegare direttamente le forneci romane a quello che è il fiume San Bortolomeo e quindi lo splendido golfo di Castellammare.